Napoli spari nel circolo 24enne scampa all'agguato notte di paura in un locale di soccavo la vittima raggiunta ad alcuni colpi di pistola se la caverà con ferite guaribili in 20 giorni in azione due killer armati e a volto coperto indagano i carabinieri migranti sbarco numero 30 salerno ormai al collasso al molo manfredi arrivata la nave ongci con a bordo 114 persone tra loro anche un minorenne tutti hanno trovato sistemazione in campania ma emergenza strutture ormai quasi sature napoli caldo record evitate di uscire nuova allerta per ondate di calore fino a domani anche il capoluogo partenopeo e tra le città da bollino rosso la protezione civile evitate di uscire nelle ore più calde anche benevento tra le città a rischio tremano i campi flegrei sos dei sindaci al governo lo sciame sismico continua a far paura appello dei sindaci di bacoli e pozzuoli al ministro della protezione civile musumeci servono verifiche sugli edifici il governo intervenga con risorse ad hoc ztl valanga di multa e polemica d'avellino decine di cittadini decisi a contestare le contravvenzioni rimediate in via luigi amabile l'opposizione chiede correttivi al dispositivo ma il sindaco festa va avanti e conferma nessuna illegittimità 118 senza medici a bordo il fortore ricorre al tar oltre 3000 firme raccolte per dire no alle ambulanze senza medico nel beneventano comitato pronto al ricorso coinvolgeremo la giustizia amministrativa non possiamo rinunciare a questo servizio fondamentale e questi erano i nostri titoli buon pomeriggio ben trovati con l'informazione regionale di 8 channel in primo piano la cronaca con l'agguato avvenuto nella notte a napoli è stato raggiunto all'interno di una sala giochi del quartiere di soccavo e ferito a colpi di arma da fuoco il fatto è accaduto la scorsa notte dopo le due vittima una giovane di 24 anni che è stato soccorso e medicato all'ospedale san paolo sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di napoli bagnoli da una prima ricostruzione i militari hanno accertato che l'uomo mentre si trovava nella sala giochi di soccavo sarebbe stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco due persone entrate nel circolo con volto coperto avrebbero sparato per poi fuggire i carabinieri del circolo hanno rinvenuto e sequestrato due bossoli calibro 9 e una ogiva per la vittima 20 giorni di prognosi per feriti al polpaccio alla coscia e al posto destro le indagini sono in corso nuovo sbarco di migranti a salerno il trentesimo nella storia della città al molo manfredi è arrivata questa mattina la nave siai con a bordo 114 persone tra loro un minorenne tutte hanno trovato sistemazione in campagna vediamo sbarco numero 30 per salerno che si conferma sempre più città dell'accoglienza al molo manfredi nei pressi della stazione marittima è arrivata in mattinata la siai a bordo della nave ong battente bandiera tedesca 114 persone tra loro anche un minore un ragazzo bengalese di 17 anni tutti hanno trovato sistemazione ormai le strutture sono al collasso sono abbastanza sature soprattutto per i minori ma non solo quelle salernitane per cui se continua questo trend che soprattutto negli ultimi periodi è stato veramente molto c'è stata una grande costanza di sbarchi abbiamo delle difficoltà a bordo diverse nazionalità per la maggior parte proveniente dall'asia ma non solo per lo più provengono dal bangladesh c'è un minore e poi ci sono degli egiziani sei egiziani due palestinesi e un siriano abbiamo saputo in questo momento che c'è un ragazzo di 17 anni per cui come comune di salerno come settore politico e sociali lo prenderemo in carico abbiamo già trovato il posto dove allocarlo i migranti sono stati soccorsi dalla nave ong in tre distinte operazioni di salvataggio nel mar mediterraneo la questura è al lavoro per individuare eventuali scafisti a bordo noi siamo qua per capire se a bordo della motonave ci sono degli scafisti ci sono stati tre soccorsi a mare quindi dobbiamo cercare di capire chi era il pilota di ogni di un'imbarcazione in vetro resina nuova allerta per ondate di calore a napoli fino a domani anche il capoluogo partenopeo tra le città da bollino rosso ma farà caldo anche nelle aree interne vediamo le temperature sono tornate a salire in questa ultima decade di agosto il caldo non sembra voler concedere tregua nuova allerta della sala operativa regionale per ondate di calore fino a domani mercoledì 23 a napoli previste temperature al di sopra dei valori medi stagionali il capoluogo partenopeo torna tra le città da bollino rosso e dalla protezione civile viene raccomandato di usare misure di autoprotezione evitare di uscire nelle ore più calde della giornata nonché attenzione per anziani e fragili chi può cerca ancora refrigerio e spiaggia ma per chi è tornato in città anche nelle aree interne della regione il caldo continua a farsi sentire ed è così che dopo aver affrontato il mese di luglio più caldo della storia anche in questi giorni si cerca di evitare le ore calde per uscire preferendo luoghi al riparo dal sole già nel mese di luglio che non si respirava purtroppo sappiamo che bene avendo c'è abbastanza umidità è normale che si soffre questo caldo al mare ora la mattina presto farei un posto chiuso con l'aria condizionata lavoriamo più di sera di mattina quando si passeggia si cerca di sfruttare l'ombra degli alberi è normale siamo in estate evitare anche le ore mattutine attenzione inoltre ai più piccoli i più piccoli usciamo la mattina presto e poi a casa mentre sembra aumentare il consumo di frutta e verdura si mangia sempre frutta e verdura si sa beviamo molta acqua e mangiamo molta frutta frutta e moltissima verdura e a napoli code anche oggi davanti agli uffici del welfare per richiedere la carta acquisti da 382 euro intanto in tanti vanno via delusi dopo ore e ore di attesa sentiamo il sole le temperature elevate di questi giorni non fermano la corsa la carta acquisti a napoli dove anche questa mattina già dalle 8 si registravano più di 200 persone in fila davanti agli uffici di via tommasi il sussidio del governo meloni ammonta 382 euro una tantum ed è destinato a famiglie con reddito i 6 inferiore ai 15 mila euro l'anno a napoli sono 72 mila gli aventi diritto ma solo 31 mila sono stati sorteggiati per il momento in fila anche tanti esclusi che vogliono spiegazioni quelli che hanno perso la lettera dell'inps e quelli che non l'hanno mai ricevuta a tutte secondi gian province tutto qua siamo da qui dalle 9 stamattina e abbiamo ricevuto come numero 465 per me hanno sbagliato non mandare le lettere a casa magari un'email quando vogliono ci intracciano adesso no l'assessore al welfare luca trapanese chiarisce non è il comune a decidere questo è il risultato di una cattiva comunicazione di una non trasparenza nel riguardo a questo tipo di misura c'è una grande confusione dove l'amministrazione in questo caso la sta solo subendo e non può fare altrimenti se non quella che oggi come ieri siamo aperti e disponibili ai cittadini nel dare delle informazioni nel cercare di aiutarli ma non abbiamo fatto nell'elenco non abbiamo scelto nelle persone non abbiamo fatto nella selezione non abbiamo scritto negli indirizzi noi abbiamo solo trasferito alla posta quello che l'Inps ci ha dato restiamo a Napoli nella villa comunale in curia e abbandono i cittadini chiedono più controlli mentre a Mappatella Beach non risultano danni denunciati e attribuiti alla produzione del film di Sorrentino vediamo più manutenzione e decoro per la villa comunale di Napoli è quello che chiedono cittadini e avventori per il parco del capoluogo in preda all'incuria e al degrado risulta migliore ma sempre abbandonata è cercano di pulire ma non è abbastanza non c'è manutenzione c'è un buco a terra vicino alla scannata laggiù più a destra la gara d'appalto per chiudere un buco di 20 centimetri e tuttavia c'è chi riflette anche sulle responsabilità degli stessi cittadini e non solo su quelle istituzionali c'è anche noi che non manteniamo bene la città i turisti anche quelli che fanno anche loro la stessa cosa e poi c'è la questione sicurezza con chi chiede controlli per ciò che accade all'interno della villa ci vorrebbe una vigilanza secondo me che garantisse il decoro che attualmente non c'è perché girano persone mezze nude si lavano, vabbè per carità le problematiche sociali esistono infine emerge dopo le polemiche dei giorni scorsi circa le riprese del film di Sorrentino che non risulterebbero i danni denunciati per le doccette per i disabili e i fontanini presenti a Mappatella Beach risulterebbe per contro che la stessa produzione ha provveduto alla raccolta rifiuti alla sicurezza Due incidenti mortali nelle ultime ore in Campania è morto all'ospedale Cardarelli dove era ricoverato un ragazzo di 23 anni è rimasto gravemente ferito mentre era in sella ad una potente moto a Posillipo il giovane viaggiava a sostenuta velocità lungo via Virgilio ha perso il controllo rovinando contro un'auto parcheggiata in sosta a quanto pare mentre impennava il mezzo altro incidente mortale a Volturara e Irpina in provincia di Avellino dove un 45 anni ha perso la vita andandosi a schiantare sempre con la moto contro un muro Campi Flegrei, lo sciame sismico continua a far paura SOS dei sindaci di Bacoli e Pozzuoli al ministro della protezione civile Musumeci si chiedono controlli sugli edifici privati in particolare vediamo sciami sismici che si ripetono a distanza di 48 ore scosse di magnitudo sempre crescente ormai nei Campi Flegrei sembra essere tornati ai giorni della crisi dell'84 tremori continui, boati, edifici che sussultano in alcuni casi comparsa di crepe nei muri eppure gli esperti sostengono che non siamo ancora ai livelli di 39 anni fa ma la preoccupazione è tanta al punto che ieri il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione insieme al sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni hanno chiesto un incontro urgente al ministro della protezione civile Nello Musumeci abbiamo chiesto un incontro urgente al ministro della protezione civile ministro Mesumeci per divenire a migliori soluzioni per i cittadini al fine di fare lavori sismici di valutare la staticità degli edifici privati questo è necessario perché degli edifici pubblici ci abbiamo già pensato noi ma possiamo intervenire sugli edifici comunali gli edifici pubblici non di certo su quelli privati quindi è necessario che ci siano dei fondi ad hoc per permettere ai cittadini di poter avere abitazioni maggiormente sicure che possono dare maggiore sicurezza ad una comunità che è in questa fase storica fortemente preoccupata resta intanto la preoccupazione di tanti cittadini ma la paura è anche figlia di cattiva informazione avverte il sindaco non si può essere attenti al bradicismo soltanto quando percepiamo la scossa quindi siamo tutti attenti quando c'è la scossa e quando c'è da pubblicare sul web ho sentito la scossa ma siamo poco attenti quando poi i comuni o anche enti sopracomunali organizzano iniziative utili a far conoscere la problematica e soprattutto a far conoscere i piani di protezione civile e i piani di evacuazione quindi esorto la comunità a ascoltare e partecipare Andiamo ad Avellino non si placano le polemiche per la ZTL di Via Amabile l'opposizione chiede correttivi alla segnaletica ma il sindaco spiega è tutto corretto intanto nella strada che conduce al quarto varco per il centro storico ancora proteste degli automobilisti vediamo ZTL valanga di multe e polemiche ad Avellino le sanzioni fioccano per i cittadini e visitatori alle prese con il varco 2 del centro storico l'opposizione con Ferdinando Piccariello del Movimento 5 Stelle chiede correttivi ma il sindaco Festa difende il dispositivo la ZTL è posizionata correttamente la telecamera è posizionata in modo tale che chi arriva e si accorge della ZTL attiva può girare a sinistra ora mi aspetto dalle opposizioni che non hanno molta conoscenza delle norme non sono molto attente usano strumentalmente provano a farlo qualsiasi notizia una scorretta comunicazione non me lo aspetto invece dalla stampa ma senza fare polemica abbiamo chiarito ovviamente che è tutto regolare e che invece andrebbe detto ai trasgressori fate più attenzione intanto sulla comunicazione dell'ente continua il botte e risposta tra l'ordine dei giornalisti e il comune il presidente Lucarelli aveva contestato l'utilizzo del sito dell'ente per le rettifiche da richiedere agli organi di informazione e non è tardata ad arrivare una nuova risposta del primo cittadino ovviamente per quanto ci riguarda nessuna polemica e nessun problema certo quando si legge su qualche organo di stampa di presunti errori commessi dalla pubblica amministrazione in particolare dalla municipale è giusto fare chiarezza ma intanto il capoluogo Irpino è alle prese con una nuova emergenza quella del caos infinito al pronto soccorso se avessi la competenza per realizzare l'ampliamento del pronto soccorso li avrei già realizzati la competenza è nelle mani del Moscati posso spiegare che al più presto si è risolta questa situazione che però è frutto ricordiamolo di una programmazione regionale errata andiamo a Salerno sono iniziati i festeggiamenti in onore di San Matteo monito dell'Arcivescovo per la pace e per i giovani sentiamo con la tradizionale alzata del panno di San Matteo a Salerno sono iniziate le celebrazioni dedicate al Santo Patrono dopo la messa celebrata nella cripta del Duomo si è tenuto il corteo con la reliqua del braccio ed il panno del Santo l'Arcivescovo Andrea Bellandi è affidato all'intercessione del Patrono Cinque Intenzioni la pace nel mondo i giovani le famiglie di religiosi coloro che vivono in situazioni complesse la prossima visita pastorale sinodale emozioni e tradizione in cattedrale per un rito che da sempre vede la partecipazione di migliaia di fedeli io perlomeno provo mi viene qualche cosa nel cuore non vediamo l'ora che viene il 21 settembre per questa festa amata anche se io non abito a Salerno però da anni vengo sempre per noi salernitani San Matteo è tutto un momento di fede un legame forte come hai detto tu con il Santo Patrono della città è anche un momento di conoscenza e di appartenenza da parte dei salernitani in relazione al proprio Santo Protettore Bellandi ha anche fornito delle prime indicazioni sugli appuntamenti dedicati alla festa patronale nel giorno di San Matteo la messa pontificale sarà celebrata dal cardinale Matteo Zuppi la processione invece prenderà il via alle 18 del 21 settembre andiamo nel Sannio oltre 3.000 firme raccolte per dire no alle ambulanze senza medico nel Fortore il comitato che porta avanti la battaglia si dice pronto a ricorrere al Tarre vediamo chiedono il ripristino della presenza dei medici sulle ambulanze che in un territorio lontano e privo di servizi come il Fortore può rivelarsi fondamentale per salvare una vita prosegue la battaglia del comitato no demidicalizzazione 118 Fortore Muscano che sta raccogliendo firme per formalizzare la petizione siamo sicuramente superiore alle 3.000 firme noi stiamo chiedendo un'unica cosa quella di integrare i medici sul 118 facendosi carico delle prestazioni aggiuntive come previsto dal decreto legge del ringaro Borlette non capiamo il motivo per cui se si può far uso delle prestazioni aggiuntive è stato previsto la demidicalizzazione in alcuni territori togliendo dei servizi e ancora negli ultimi giorni il consiglio comunale di Castelvetere in Valfortore ha votato all'unanimità contro la demidicalizzazione del 118 un passo importante annuncio ancora Cormano che chiederemo di compiere anche agli altri comuni come abbiamo formalizzato in un documento che in queste ore stiamo inviando a tutti i primi cittadini della zona non solo se la via del dialogo istituzionale non dovesse funzionare il comitato si dice pronto a rivolgersi alla giustizia amministrativa abbiamo avuto anche una buona partecipazione per quando riguarda la raccolta dei fondi necessaria per provare a fare ricorso al TAR abbiamo sentito alcuni avvocati esperti in materia che ci hanno detto che ci sono dei presupposti per poter provare a vincere questo ricorso il raduno dei gemelli ad Avellino domani Orgoglio Twins all'Eliseo Antonia Di Nardo annuncia centinaia di coppie e tris in arrivo da tutta Italia vediamo i gemelli più uguali quelli più diversi più piccoli anche i più grandi sono solo alcuni dei riconoscimenti che verranno consegnati domani nell'ambito della terza edizione del raduno nazionale dei gemelli manifestazione ideata da Antonia Di Nardo ad ogni registrato che avrà firmato la liberatoria immagini verrà data una spilletta per facilitare il lavoro ai giornalisti e poi cominceranno dei giochi all'interno dell'Eliseo ci saranno dei giochi di riflessi con degli specchi una mostra fotografica e tematica sui gemelli danza emozionale a cura di Federica Grosso arte imperfetta di essere con uno slogan eloquente e palindromo io vado da voi il raduno nazionale di gemelli cerca di enfatizzare l'identità e l'unità gemellare in modo creativo ma anche di studiarne alcune specifiche caratteristiche anche dal punto di vista psicologico l'essere gemelli aiuta ad essere più forti loro incontreranno tanti gemelli capiranno anche che non c'è poi così tanta rarità a sostenere la manifestazione anche l'UMPLI provinciale con il presidente Giuseppe Silvestri e il centro italiano femminile con la referente Francesca Archidiacono ma ci saranno anche partnership importante tra i comuni interessati da un'alta incidenza di nascita gemellare a volte potrebbero scambiarci ma comunque è un'emozione avere un fratello che ti capisce e ti ti aiuta venite al raduno dei gemelli a Battipaia di nuovo alle prese con un ordigno della seconda guerra mondiale nel cantiere dell'ex zuccherificio infatti è stata rinvenuta nei giorni scorsi una bomba l'area è stata circoscritta in prefettura Salerno il primo vertice operativo per coordinare le operazioni di disinnesco al lavoro gli esperti del reggimento guastatori di Caserta possibile l'evacuazione di oltre mille persone l'ipotesi più probabile è che si sceglierà una domenica di settembre per ridurre al minimo l'impatto sulla popolazione i disagi però saranno inevitabili previsto lo stop alla circolazione stradale e ferroviaria per almeno otto ore si aggravano nel sannio i danni provocati dai cinghiali sia all'agricoltura che agli automobilisti in ritardo il piano per la caccia selettiva a causa dei ricorsi presentati dagli animalisti vediamo appezzamenti di mais vigneti e orti distrutti dai cinghiali che sempre più spesso vengono anche investiti dalle auto creando danni a loro stessi e ai veicoli quello dell'aumento spropositato dei cinghiali resta un problema in numerosi centri del sannio a partire da Benevento dove gli animali sempre più spesso dai torrenti dai due fiumi che attraversano la città arrivano tra i palazzi e attraversano le strade all'improvviso come spesso accade nella zona della rotonda dei pentri e vengono per questo investiti creando danni e pericolo per gli automobilisti poi ci sono i danni per gli agricoltori che aumentano giorno dopo giorno una situazione non semplice da gestire per la quale ancora non si trova una soluzione la situazione è diventata abbastanza grave ci segnalano danni ovunque l'abbattimento mirato ancora non parte per via di alcuni ricorsi la regione si stava attivando per un piano di abbattimento con le girate però ci sono stati un po' di problemi dobbiamo aspettare che questi ricorsi si concludano e vediamo di partire con queste famose girate per fare degli abbattimenti mirati da mesi anche le associazioni degli agricoltori chiedono di accelerare l'iter per i rimborsi dei danni subiti e per mettere in campo azioni concrete per contenere il numero degli ungulati San Bartolomeo sta a primo posto nella nostra scaletta priorità di agire per per l'abbattimento dei cinghia è tutto per questa edizione del nostro telegiornale in regia Aldo Fenizia grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.